Buongiorno dallo Centro di College London Italy. Oggi vi parlo da Didacta Firenze, è una grande kermesse di novità per il mondo della scuola e anche noi siamo qui con le nostre nuove proposte. Da quest'anno Crenet si propone non solo come ente certificatore dei nostri esami di lingua, musica e arti comunicative, ma anche come educational provider. Ciò significa che abbiamo nel nostro portfoglio adesso anche corsi di formazione per i docenti, nonché la proposta per i corsi di PNRR che in questi giorni molte scuole stanno attivando con il nostro corso Teaching English Online, Teaching CLIL e un corso proprio dedicato alla transizione digitale. Ovviamente non poteva mancare un lancio del nostro ISE Digital, è arrivato il momento proprio di sbarcare la soglia digitale anche per il nostro ISE, come voi lo conoscete già. Abbiamo incontrato tantissimi docenti, tantissimi docenti della nostra community, ma anche nuove persone che faranno parte della nostra community a breve. vi aspettiamo sui nostri webinar, sui nostri gruppi, sulla nostra piattaforma, ovunque è possibile interagire con voi, noi ci saremo.